Un incendio divampato mercoledì 15 gennaio nel pomeriggio poco prima delle 13 in via Carlo Alberto a Forno Canavese. Le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria di un'abitazione e hanno intaccato il tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea con due squadre, i volontari di San Maurizio Canavese e l'autoscala da Torino. Una corsa contro il tempo per evitare che le fiamme intaccassero le case di Decenti. Le travi sono bruciate e il tetto è andato completamente distrutto. Una parte della copertura è crollata sul balcone dal lato interno cortile dell'abitazione. I vigili del fuoco hanno lavorato ore ancora dopo aver spento le fiamme per raffreddare e mettere in sicurezza la struttura. In unaiplina cuore con혀 colore con questo Galare e Cori Levittoria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.